Che vuoi? Ued, Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani vogliono avere un bambino? L'indizio Arrivano nuove sorprendenti news da una delle coppie più amate di uomini e donne. Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di una coppia formatasi a uomini e donne qualche tempo fa. . Stiamo parlando di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani che nelle scorse ore tramite un loro gesto social hanno scatenato in brevissimo tempo tutta la curiosità dei loro fans. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La nascita di un amore. . Tutti i telespettatori di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani ed il loro percorso nel programma di Maria De Filippi. . I due giovani infatti si conobbero l'anno scorso al trono classico mentre Claudio sedeva sulla poltrona rossa e Ginevra era una delle sue corteggiatrici. . Il loro percorso nello show si concluse con una scelta alquanto anomala, celebrata una settimana dopo che Claudio aveva scelto la Pisani in esterna. . Il tutto comunque fu causato dal ritiro di tutte le altre corteggiatrici che erano in studio per il cancelletto tronista, fra cui ricordiamo Sonia Lorenzini e Simona Solimeno. . 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 Commento che non ti aspettavi. Ieri pomeriggio Claudio D'Angelo ha stupito tutti i suoi fans con un suo commento inviato a Francesca Del Taglia. Claudio infatti ieri ha colto l'occasione per congratularsi tramite social con Eugenio Colombo e la sua compagna per l'arrivo del loro secondo bambino. Ovviamente in questo i fans del Tronista non hanno trovato nulla di strano, quello che però hanno notato è che Claudio nel congratularsi con Francesca ed Eugenio ha anche all'uso al possibile arrivo di un bambino suo e di Ginevra. Quando Francesca Del Taglia infatti ha risposto a Claudio che adesso forse era il loro turno di avere un figlio, lui ha risposto con una frase alquanto sibillina, ci stiamo lavorando. Ovviamente il commento di D'Angelo è subito saltato all'occhio dei migliaia di fan della coppia che sono rimasti piacevolmente stupiti dalle parole di Claudio. C'è da aggiungere comunque che il commento lasciato dall'ex tronista su Instagram ieri potrebbe anche essere interpretato in maniera più goliardica come una semplice battuta fatta così per caso sui social. Cancelletto uomini e donne news. Cancelletto uomini e donne news.